E' Mauro Mambelli il nuovo presidente di Ascomoc of Commercio Ravenna. Mambelli, noto ristoratore, già vicepresidente vicario dell'associazione e presidente del consorzio turistico Ravenna Incoming, succede così a Tiziano Parenti con un'elezione per acclamazione. I prossimi cinque anni le linee guida potranno essere queste qui. Allora sinceramente voglio mettere in primo piano il confronto. Il confronto fra noi, fra le istituzioni, fra tutto quello che ne comporta. Poi sicuramente ci potrà essere la presenza sui tavoli che comunque sono decisionali, che comunque possono in un qualche modo andare a inficiare il commercio nel bene e nel male. Io sono neopresidente della Conf Commercio e soprattutto ho nel cuore il benessere dei miei associati. Altra cosa importante è sicuramente il coraggio, il coraggio che mettiamo tutti i giorni noi per affrontare il quotidiano, perché oggi essere commerciante è veramente una cosa non facile, con tutte le cose che ci possono essere. E poi ci sono tante altre iniziative, come può essere sicuramente un'altra cosa importante, seguire il turismo, quello che è il comparto del turismo, che per la nostra città è veramente molto molto importante. Ha citato il turismo, lei viene anche dall'esperienza di Ravenna Incoming. Il turismo e il commercio a Ravenna vivono un rapporto un po' conflittuale, specialmente con i turisti delle crociere, c'è sempre questo problema annoso. Sì, il turismo delle crociere comunque non è che sia un problema, è un qualcosa che stiamo affrontando anche per la città, è stata una novità, è stata un qualcosa che comunque ci ha portato a dover cambiare alcune abitudini consolidate nel commercio stesso, quali sono gli orari, quali sono i momenti di chiusura, quali sono comunque le cose che erano, come dicevo prima, erano consolidate, ormai erano abitudini della città. Sto vedendo che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi proprio, si è cambiato, si è capito veramente la risorsa che può essere la crociera e ci si è rivolti con un maggior interesse a questa cosa, cambiando proprio quello che è il discorso degli orari e delle chiusure e comunque queste ospitalità sempre maggiore, che è proprio una nostra prerogativa della Romagna, l'abbiamo proprio tirata fuori come se ne fa, come ne consegue comunque tutta la situazione. Il livello di collaborazione che ci sarà con l'amministrazione locale o meglio da dove partire, vista anche i problemi della tassazione, delle aperture, come faceva riferimento a lei? I rapporti con l'amministrazione io li voglio tenere sempre cordiali, sempre comunque di collaborazione, come è stato finora, perché anche oggi ero vicepresidente vicario e comunque ricoprivo degli incarichi in centro storico, proprio anche dentro alla cabina di regia, sempre comunque in situazioni che riguardano il centro storico, che riguardano la città, quindi li vorrei mantenere, li voglio mantenere allo stesso modo. È chiaro che una certa collaborazione iniziale dovrà portare poi anche delle decisioni, delle decisioni a volte potranno essere anche in un certo modo, come si può dire, anche un pochino dure, anche un pochino importanti, quindi alla fine bisognerà cercare sicuramente di quagliare la situazione e comunque di arrivare ad una cosa che, ad una soluzione del problema, ma sicuramente da parte mia ci sarà sempre un'estrema volontà nel portare avanti in tutti i modi quello che è l'interesse del commercio. Se qualcosa non andrà a favore del commercio, sarà in un certo modo da parte mia, sarà comunque preso di mira e si farà di tutto per modificarlo.